Il controllo strategico e di gestione sono gli elementi chiave di qualsiasi organizzazione, in quanto attraverso un controllo strategico efficace, le aziende possono mantenere una visione chiara e orientata al futuro, adattandosi alle mutevoli condizioni di mercato. Nel contempo, un controllo di gestione solido assicura che le attività quotidiane siano efficienti, ottimizzando l'uso delle risorse e garantendo la massimizzazione del valore per tutte le parti interessate. L'evoluzione continua dei sistemi di controllo e la loro integrazione con le nuove tecnologie sono essenziali per affrontare le sfide future e per garantire la sostenibilità a lungo termine delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.